il meteo è offerto da la proloco turrida presenta la trentottesima edizione della sagre dai cais scopri gli appuntamenti di giugno in programma nel parco sul tagliamento sulla pagina facebook ufficiale sagre dai cais azienda agricola le celline produzione e vendita diretta vini colli orientali via san pietro 14 a san martino di codroipo telefono 348 40 46 727 segui la pagina facebook ufficiale la paella ristorante spagnolo a lignano pineta ben ritrovati con le previsioni meteo per il friuli venezia giulia di venerdì 7 giugno su pianura e costa sereno poco nuvoloso sui monti variabilità pomeridiana con la possibilità di qualche pioggia locale o rovescio temporalesco più probabile verso il cadore venti deboli da sud sulla costa le temperature sulla costa 19 22 gradi di minima 22 24 gradi di massima in pianura 15 18 gradi di minima 24 27 gradi di massima a mille metri 14 gradi e a 2000 metri 8 gradi una rivederci a tutti e alle previsioni meteo di domani il meteo è stato offerto da la proloco turrida presenta la 38esima edizione della sagre dai cais scopri gli appuntamenti di giugno in programma nel parco sul tagliamento sulla pagina facebook ufficiale sagre dai cais azienda agricola le celline produzione e vendita diretta vini colli orientali via san pietro 14 a san martino di codroibo telefono 348 40 46 727 segui la pagina facebook ufficiale la paella ristorante spagnolo a lignano pineta con la pagina facebook ufficiale la pagina facebook ufficiale la pagina facebook ufficiale